Corrispondenze. È un tempio la natura, ove i viventi pilastri, a volte confuse parole, mandano fuori. L'attraversa l'uomo tra foreste di simboli, dagli occhi familiari, i profumi e i colori e i suoni. Si rispondono come echi, lunghi, che di lontano si confondono in unità profonda e tenebrosa, vasta come la notte e il chiarore. Esistono profumi freschi come carni di bimbo, dolci come gli opoi e firti come le praterie, e degli altri corrotti, ricchi e trionfanti, che hanno l'espansione propria alle infinite cose, come l'incenso, l'ambra, il muschio, il benzoino, e cantano dei sensi e dell'anima i lunghi rapimenti. Questa era una bellissima interpretazione di Gianni Moi, l'amico Gianni Moi, e la poesia era Corrispondenze di Baudelaire, proprio a ricordarci quello che stiamo dicendo adesso, che esiste un'anima che trova il suo rispecchiamento proprio nella natura, no? E la natura trova delle corrispondenze a sua volta nella nostra anima, e quindi sostanzialmente questo riprenderci la dimensione intima, personale, soggettiva, psicologica, è molto molto importante, perché sembra quasi che tutto quello che ci capita non ci rispecchia più, no? No, noi siamo un pochettino estranei rispetto al contesto, estranei rispetto a noi stessi, eppure siamo natura a nostra volta, abbiamo delle leggi, rispettiamo, siamo schiavi delle leggi della natura, troviamo nella natura un riflesso dentro di noi, che non siamo più abituati ad ascoltare, non siamo più consapevoli di quello che è l'altro, dell'eco dell'altro, e l'eco anche dell'ambiente, e l'eco del mondo su di noi. Sembra quasi che questo mondo vada affrontato in maniera quasi precostituita, bisogna fare delle cose, bisogna organizzare, bisogna sopravvivere con, per, eccetera, eccetera. Manca quella dimensione, quell'attenzione a riconoscere il desiderio proprio della nostra soggettività, cioè il fatto che noi come individui siamo il risultato dell'eco che la natura ha dentro di noi, e di questo eco possiamo compiere attraverso questo eco degli atti che ci caratterizzano come soggetti, come individui, e questa possibilità di essere soggetti nel mondo arricchisce proprio la nostra qualità umana, il nostro essere persone. Eppure a volte passa il messaggio che siamo, come dire, popolo, no? Che non ci sia una dignità nella nostra soggettività. Questo è molto, molto, molto importante, perché poi dopo ciò che neghiamo, ciò che non accettiamo, ciò che non riconosciamo, degno di dignità, di importanza, ci torna come un sintomo, come una malattia, come un disturbo, come un'irritazione, come una somatizzazione. E questo è un pochettino quello che sta succedendo in questo momento storico. E questo è un po' una confidenza che vi faccio amici radioascoltatori rispetto a quello che un clinico che fa psicoterapia, psicoanalisi, vede in questo momento nel suo studio. C'è un desiderio di riappropriarsi della propria identità, della propria soggettività. E allo stesso tempo c'è un mondo che ci aliena da noi. C'è un mondo fatto di valori che sono imposti. Non c'è a volte neanche la possibilità di contemplare il proprio valore, no? E di contemplare la propria soggettività. Perché c'è una morale che viene a sopraffare l'etica del soggetto, l'etica di ognuno di noi. Valori più intimi che ognuno di noi ha, porta dentro, e che potrebbe esercitare per diventare un soggetto, diventare una persona, diventare un individuo, no? Diventare se stesso con l'altro, diventare se stesso con l'altro e poter pensare in base alla propria etica, in base a lei a confronto, all'ego come risultato del confronto col mondo, all'ego che l'altro fa nella nostra realtà psichica. Allora, questo per dire che cosa? Che questa società, questa politica, non ammette spesso il diritto ad essere soggetti. Anzi, spesso il soggetto non viene neanche tutelato, se non in aggregazione ad altri soggetti. Quindi ci sono gli enti, le categorie. Il soggetto deve avere dignità. E questa dignità viene calpestata. Guardate anche le categorie, le regioni, no? Chiudiamo le regioni, chiudiamo i comuni, facciamo come se fossimo proprio, come dire, bestie da organizzare. Cioè non c'è un'attenzione, rispetto ai diritti, alla dignità del soggetto. E noi nel nostro piccolo adesso, possiamo farlo, dobbiamo farlo. E a volte veramente viene da chiedersi come mai in società così capitaliste poi dopo spuntano le discipline orientali. No, fanno tutti yoga, si occupano tutti di chakra, no? Anche il linguaggio comune. Perché questi sono sintomi di una svalutazione della nostra identità. E meno male che ci sono delle influenze che vanno a valorizzare il soggetto. Allora io ho questa idea del cambiamento storico di una società. Ho l'idea che nulla possa essere negato, che nulla possa essere schiacciato senza una controparte che emerge e che in maniera incontrollabile fa valere il proprio diritto ad esserci. Per cui questi diritti che stanno calpestando in realtà si rivolteranno contro chi li calpesta. E sono proprio i semi di una rivoluzione, i semi di un cambiamento che noi dobbiamo spiegare il prima possibile. Perché se una società non si appropria della dignità dei propri individui è una società vuota. È una società controllata dall'alto. È una società che è, come dire, quello che serve al sistema per stare in piedi. Quindi controllata dal sistema, manipolata dal sistema, gestita dal sistema, invogliata a pensare come il sistema. Quindi sostanzialmente voglio dire quando uno psicanalista sceglie di venire in radio non è che non fa psicanalisi. Non è che la psicanalisi è dentro gli studi, dentro... E questo è anche un po' per rispondere a Nick, no? La psicanalisi è proprio un'attenzione, una focalizzazione su alcune cose che sono fondamentali. Su alcuni aspetti che sono, diciamo, veramente importantissime le premesse anche degli individui, dei soggetti. Per cui quando uno poi abbraccia e tocca e sa quanto la dignità della vita, quanto la dignità anche del desiderio sia importante, la dignità dell'essere, del poter essere felici sia importante, la possibilità di scegliere, la libertà di poter esserci è importante, poi la esercita in qualsiasi contesto. In qualsiasi contesto e quindi non solo nello studio o nella clinica con un soggetto che cerca per l'appunto di ritrovarsi. Questo, come dire, è una focalizzazione di un punto di vista che poi ognuno di noi dentro il suo percorso soggettivo di riflessione sulla vita poi porta nel proprio luogo relazionale, nel proprio ruolo relazionale, col partner, con i figli, con i parenti, con gli amici. Sono quelle cose preziose, quelle relazioni preziose che poi ci danno la vita. Più di qualsiasi altra cosa materiale, più di quello che è l'illusione di poter comprare oggetti, di accumulare può darci. E invece questa dialettica del capitalismo adesso ci sta portando a creare, ci sta portando ad avere dei desideri, dei bisogni che non sono nostri, sono artificiosi. Cioè, noi vogliamo delle cose perché il bisogno ci è stato creato dall'altro, dalla comunicazione, che poi è il contesto che noi abitiamo, che noi viviamo. E spesso è anche un contesto virtuale fatto proprio di istigazione all'acquisto oppure di valorizzazione degli oggetti che potremmo comprare. È come se noi avessimo bisogno di cose che non ci servono. e in questa trappola si sta riducendo proprio si stanno riducendo le nostre azioni. Per questo è importante ritornare ad ascoltare l'eco che le cose ci fanno dentro. Ritornare alle cose sostanziali, ritornare alle cose che veramente contano. Questo è importantissimo secondo me. Questa è una confidenza che vi faccio amici. vi faccio anche in base all'esperienza da clinico negli anni. C'è proprio tanto bisogno di una società che accolga la soggettività che si sta davvero perdendo. Davvero perdendo. E questa cosa io ho fatto una trasmissione su all'inizio mi invitai Martello il sindaco di Lampedusa fu forse la prima puntata la mia prima puntata qui a Radio Gamma 5 ma io mi ricordo che mentre i bambini affogavano morivano annegavano c'era gente che diceva sostanzialmente che era giusto così e quelli erano erano quasi meritevoli di morire perché avevano attraversato il mare ma vi rendete conto che se una dialettica così passa come qualcosa di normale c'è veramente un problema a livello di contatto di empatia di identificazione con l'altro al di là all'idea politica uno può dire qualsiasi cosa può dire anche può argomentare la vicenda come dire politica sociale in tutte le maniere possibili però davanti a un bambino annegato davanti a un uomo annegato tra l'altro che scappa da un territorio bombardato da noi stessi dovremmo quantomeno avere i brividi cioè sentire l'eco di quella morte su di noi ma voglio dire senza essere Baudelaire e quindi stare con le corrispondenze uno dovrebbe anche pensare che i figli della società non sono responsabili di quel sistema sociale che le persone non sono i loro governanti che le persone sono persone e questa cosa purtroppo nella nostra società capitalista che sta prendendo sempre più piede è diventata una cosa normale trattare le argomentazioni spogliate del loro aspetto umano per questo Carla a me piace molto perché lei mette come dire mette nella vita la dignità no? e la vita è anche quella dell'animale dell'albero e tutto quindi lei si apre alla possibilità di scegliere cosa fare della vita no? non è che le cose sono scontate è proprio l'aumento della consapevolezza rispetto all'altro che ci circonda no? è importantissimo e per questo un po' tradurre la la discussione politica ridurre la discussione politica a temi quali il palestrato che annega o l'altro che ci frega le donne il lavoro eccetera eccetera sembra quasi una banalizzazione del nostro essere soggetti che possono esercitare degli atti in funzione del loro desiderio delle loro aspirazioni delle loro passioni e la politica è priva di passione perché non mi dite che chi ci rappresenta adesso a livello politico ci sta mettendo tantissima passione la passione a volte è fatta anche di competenza ora con tutto il rispetto diciamo per i nostri ministri soprattutto Speranza e Di Maio ma mi dite come fa un ministro della salute ad avere passione per la medicina se non è neanche medico per la salute se non è neanche un sanitario è un laureato in scienze politiche mi sembra tra l'altro da pochissimo il ministro degli esteri che era il nostro ministro anche dello sviluppo economico come fa ad avere passione per queste cose se non ha manco i titoli per esercitarle non sa manco di che cosa si parla e allora questa è un pochettino una società ridotta al popolo che tifa per l'uno o per l'altro mentre la politica è fatta secondo me di incompetenti che esercitano una posizione di potere probabilmente come dire una posizione di vantaggio perché comunque i soldi sono funzione di questo capitalismo creano possibilità ovviamente dentro quella cornice che vi dicevo molto materialista però sostanzialmente assistiamo a un decadimento della passione politica e non era così io vi racconto vi confido che durante i miei anni universitari io ho fatto per anni il rappresentante degli studenti l'ho fatto a Padova io ho abitato in una storica a casa dello studente che si chiamava la Fusinato e lì era il rappresentante proprio degli studenti e si andava lì a volte si lottava anche per un cavo per vedere i film il cavo del videoregistratore o per una sala fumatori però c'era passione ma non è che c'era la gente che seguiva c'era la gente che si riuniva per dialogare per parlare per trovare strategie ma era un modo di di condividere la voglia di stare insieme e di capire insieme come fare cioè c'era il bisogno di poter c'era il bisogno di dover stare insieme di dover confrontarci su alcune cose e ci si riuniva si dibatteva e si era felici quando poi le cose tornavano e quando poi avevamo la possibilità di stare insieme avevamo la possibilità di festeggiare di fare festa anche una festa a volte bisognava sudarla era la possibilità di riunirsi e poi anche sulle rette e anche sulla possibilità di poter pagare un po' meno di poter tenere un po' più la casa e compagnia bella questo a livello universitario ancora c'è questa passione ma non c'è a livello come dire politico non c'è a livello nazionale i giovani che vedo adesso non hanno tra loro una sensibilità rispetto alla politica sembra quasi che la politica sia una riduzione al partito non alle idee quando la politica è un atto un atto che parte da quel famoso desiderio di cui vi parlavo dal fatto che attraverso il contatto con l'ego che il mondo ci fa noi contattiamo che cosa è giusto per noi però se noi non sentiamo l'ingiustizia non possiamo neanche fare politica e allora questa politica spogliata della dignità dei valori è una politica che sembra quasi una gestione una gestione di pecore se non l'esecuzione di quello che il capitalismo ci ha insegnato e che Marx ci ricordava di quello che è vantaggioso per il capitale cioè per le aziende per le multinazionali e allora se la politica si riduce a come diceva Cristina Basso a chi si inginocchia prima di fronte alle multinazionali capite che la differenza tra democratici e repubblicani tra PD e PDL è solo una questione di velocità su chi esegue prima le direttive del potere la 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 più alta il più alto punto di espressione politica l'abbiamo visto nelle sardine che sono totalmente scomparse di fronte al covid quasi che la sinistra sia figlia di una borghesia che sostanzialmente scompare di fronte ai temi cruciali alle premesse della sinistra stessa cioè la sinistra che fu quella partigiana e sembra quasi che adesso i valori da difendere siano andare contro qualcuno ma non tutelare le premesse tutelare come dire quei diritti fondamentali la possibilità di avere la dignità di poter spostarsi di poter abbracciare i propri genitori che magari sono lontani in un'altra regione uno rischia chissà che per andarli a trovare e questo come dire passa come se fosse la normalità la normalità nel nome di che cosa per carità di un virus abbiamo detto centomila volte c'è un dibattito enorme c'è chi dice che si muore c'è chi dice che è un raffreddore però le premesse di un popolo le premesse di una nazione che sono le premesse dei diritti fondamentali di una nazione dei diritti all'uguaglianza alla felicità alla libertà devono essere delle premesse inviolabili intoccabili e non lo sono state non lo sono state per nulla in questo periodo storico non lo sono in questo periodo storico sono state calpestate di fronte a un popolo che non sa manco come gestire a questa cosa perché è ignorante il rispetto a quello che invece hanno fatto i nostri padri costituenti hanno fatto i nostri partigiani dopo la seconda guerra mondiale e noi abbiamo vissuto di di tutto quello che loro ci hanno lasciato in eredità dandolo per scontato totalmente cercando il benessere il benessere come luogo della felicità ma un benessere fatto di materialismo e allora sostanzialmente questo tutto questo diciamo discorso per dire che cosa per dire che in questo momento è un po' continua anche una risposta agli interventi precedenti tutto questo discorso per dire che cosa per dire che sostanzialmente non è nella posizione di critica che noi troviamo una soluzione per un mondo migliore sarebbe bello un dibattito su un'alternativa a questa modalità di gestire il popolo un dibattito sull'alternativa politica sull'alternativa di sistema è non cadere nella trappola virus sì virus no ma nel valore assoluto che hanno i valori i valori diciamo di dignità della persona nel valore assoluto che hanno le premesse per stare in questo mondo da cittadini liberi nel valore assoluto che dovrebbe avere la democrazia ricordiamoci demos gratos governo del popolo non è così e allora se il governo è del popolo il popolo deve sempre decidere non si possono fare dpcm neanche in questo momento storico e allora si possono fare però bisogna come dire consigliare ma non si può obbligare a una persona che è abituata che sta in piedi magari anche psicologicamente attraverso il rituale a rinunciarci ma non si può fare non si può fare o o